segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuto massimo giannini buonasera allora parliamo di tutto naturalmente però la manovra economica definisce un governo di questi tempi come definisce questo governo questa manovra ma riprendendo luca e paolo ti direi che questa è la manovra di halloween dolcetto e scherzetto cioè al suo interno contiene misure totalmente contraddittorie il cui senso di fondo però è uno soprattutto giorgia meloni doveva saldare una gigantesca cambiale elettorale e ha costruito la sua manovra in buona misura a debito ricordiamolo 24 miliardi totali di cui 16 a debito quindi a carico delle generazioni future per arrivare con qualche cosa in mano da agitare di fronte ai contribuenti elettori alle elezioni del 24 di giugno dell'anno prossimo le europee perché per il resto e questo è il dolcetto per il resto lo scherzetto sono una serie di misure tipiche della prima repubblica alcune delle quali poi magari ne parliamo nel dettaglio riguardano per esempio le pensioni sulle quali si fa cassa dopo che hanno fatto campagne elettorali contro la fornero e poi una spolveratina di tasse che mi ricordano il governo andreotti allora l'anno scorso giorgia meloni la prima manovra che ha fatto ha detto siamo appena arrivati non possiamo darvi il senso del cambiamento facciamo quello che possiamo l'anno prossimo faremo la vera manovra che sancisce il cambio di fase l'anno prossimo sarebbe questo la manovra sarebbe questo ed è una manovra da prima repubblica allora vediamola c'è un aspetto che non è da prima repubblica nella prima repubblica ad esempio le pensioni si allentava sempre adesso invece qua a quanto pare nonostante sia il governo di salvini e meloni sulle pensioni si picchia si picchia neanche tanto debolmente c'è una questione di quantità e una di qualità allora la qualità cartello 35 ci sono pensioni più magre taglio fino a 11 mila euro l'anno per 700 mila dipendenti pubblici stretta fino a 2400 euro l'anno per taglio e alla rivalutazione quantità cartello 34 è più difficile andare in pensione con salvini è più difficile andare in pensione pensione più bassa per chi usa quota 103 e aumenta l'età per azione donne apre sociale si allontana la pensione di anzianità al di là degli aspetti tecnici che succede nelle pensioni e che significa politicamente questo è lo scherzetto perché ripeto per anni salvini ha fatto tutta la sua campagna elettorale e lo sapete bene perché l'avete ospite tutti i martedì contro Elsa Fornero la Fornero è il nome non salvini era il simbolo di tutta la negatività politica e tecnica dal punto di vista della lega ma anche dal punto di vista di giorgia meloni attenzione e dunque fanno la prima manovra che deve sancire il cambio di fase e introducono misure più severe di quelle previste dalla legge Fornero perché prima ricordiamolo nella versione precedente della manovra si arrivava addirittura a quota 104 poi la lega ha capito e salvini ha capito che non poteva essere sostenibile però perché lo fanno perché lo fanno allora intanto fammi dire che c'è un aspetto veramente insostenibile e che al di là della beffa che fai una cosa ancora più severa di quella fatta dal tuo nemico storico dalla tua nemica storica qui introducono una penalizzazione fortissima con il ricalcolo contributivo su 700 mila pensionati che sono medici infermieri e insegnanti io mi ricordo che negli anni tre anni fa del covid duro si era detto mai più i medici sono la grande dei risorsi gli eroi di questo paese anche gli insegnanti che si organizzavano gli insegnanti la stessa cosa con internet perché lo fanno giovanni perché devono fare cassa perché al di là di tutto ciò che fanno in debito un po di soldi di copertura li devono trovare la cosa peggiore è che le trovano sulle pensioni sui pensionati dove è chiaro che c'è da mettere a posto alcune sperequazioni ma non è questo il modo è una follia questa allora dice massimo giannini perché lo fanno perché naturalmente il debito copre mi pare due terzi della manovra guardiamo come è fatta questa manovra per due terzi si chiedono soldi ai mercati ve li ridaremo per un terzo ci sono poi eccolo qua stretta pensione aumento tasse perché aumentano delle tasse iva pannolini assorbente di sigarette una mini matrimoniale sugli affitti brevi e le case poi e le case che sono state riviste col super bonus c'è una tassa se le vendi e comunque viene rivista la rendita catastale sono più facili pignoramenti perché ora lo vedremo nel particolare nel talk ma non era vero che con un click potevi prendere c'era solo un permesso da chiedere a una banca e quel permesso rimane diciamo quella che era partita rimane tale e poi c'è la taglia il taglio della spesa dei ministeri ci parli delle tasse dove vanno allora il punto è questo qui siamo sempre nella serie degli scherzetti no è perché parlavo di manovra da prima repubblica intanto c'è pure un aumento delle sigarette di 5 10 centesimi a pacchetto il che lo facevano i governi andreotti io me lo ricordo poi a me va benissimo che tassino le sigarette il fumo ci mancherebbe altro però diciamo che quanto a fantasia insomma non è che abbiamo brillato e l'altra questione sono proprio i due capitali del centrodestra di bellussoni e qui il gigantesco cortocircuito di questo governo no che negli anni passati quando stava nell'opposizione sia meloni sia salvini hanno difeso questi beni primari del paese la casa chi tocca la casa muore guai giù le mani dalla casa è la stessa cosa per le pensioni adesso devono trovare due soldi ricordiamolo sono 8 miliardi da coprire gli altri 16 sono tutti a deficit e vanno a pescare sulla casa anche lì dopo una lunga battaglia con forza italia alla fine la cedolare secca sugli affitti è rimasta e poi una spolveratina di altre tasse appunto abbiamo detto l'iva sui pannolini perché anche qui le poche misure buone vengono immediatamente annullate da una misura uguale e contraria perché mentre aumentano diciamo il bonus asilinido come è stato chiamato immediatamente riaumentano anche l'iva su tutti i prodotti della prima infanzia il che annulla le due cose il tutto per fare che non abbiamo parlato del dolcetto perché la cambiale elettorale qual è sono le due misure più importanti che ci sono dentro questa manovra anche questo è di tipo fiscale e cioè la conferma del taglio del cuneo fiscale del 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro e del 6 per quelli fino a 35 mila euro e poi questo primo modulo di riforma dell'irpef con l'accorpamento delle prime due aliquote è una roba che costa 15 miliardi anche questo è fatta in deficit ma il paradosso qual è perché un contribuente potrebbe dire beh mi ridanno un po di soldi finalmente ottima cosa bene intanto il taglio del cuneo l'aveva fatto il governo draghi quindi loro confermano una misura del governo draghi si accorge di meno tassi diciamo sono le stesse tasse dell'anno scorso grosso modo però le rendono strutturali dicono strutturali ma durano solo un anno eccola la cambiale elettorale cioè la copertura c'è solo per il 24 e a che cosa serve questa roba 25 andranno ritrovati 25 non ci sono soldi ne vanno ritrovati altri 15 perché ripeto devi sommare le due misure e non ci sono allo stato attuale però serve a poter dire agli italiani come fece renzi con i famosi 80 euro guardate la busta paga c'è una roba che si chiamerà vedremo come bonus meloni sarà di 100 euro grosso modo ma serve per andare a votare alle europee con animo più sereno però non si è mai vista una riforma strutturale come la chiamano loro che dura solo un anno è in un altro gigantesco contro sé adesso non ci perdiamo nel tecnico ma arriviamo al nucleo della questione una manovra così in cui è più difficile andare in pensione in cui si pagano più tasse rispetto all'anno passato è una manovra che serve a tenere i conti in piedi voglio dire quando tra una settimana 10 giorni 15 giorni quelli che danno il mood al mercato quelli che dicono attenzione questo è un paese che funziona o che non funziona avranno delle carte su cui dicono l'italia sta andando bene sono delle carte credibili crescono quanto hanno detto spendono quanto hanno detto ci sono queste carte a questo allora è evidente che questa per menoni è la manovra del vorrei ma non possono lei avrebbe voluto fare molto di più ma fare più deficit e quindi debito di quello che hanno fatto sarebbe stato un suicidio ha trovato i capri espiatori perché la strategia di questo governo è sempre trovare capri espiatori non possiamo darvi di più perché purtroppo c'è quella maledetta banca centrale europea che ci ha aumentato i tassi di interesse e quindi ogni anno dobbiamo pagare 14 miliardi in più su tutte le emissioni di debito pubblico che facciamo e poi c'è quel maledetto di conte perché ha fatto il super bonus e quello grava per 20 miliardi ogni anno sulle nostre casse quindi più di questo noi non possiamo fare bene dopodiché questa manovra non ci mette a riparo è una manovra che continua a farci camminare su un crinale perché ripeto con 18 quasi 18 miliardi a debito no noi diamo la conferma del fatto unito alla nadef che ha ridotto solo di un centesimo di punto il rapporto debito pil dei prossimi due anni noi diamo la sensazione ai mercati che continuiamo a poter scivolare da un momento all'altro che non stiamo risanando niente non c'è niente che realmente fa crescere l'economia e al tempo stesso non stiamo risanando i conti quindi e concludo il 10 di novembre si esprimerà fitch la prima agenzia di rating il 17 toccherà mudis se basta che una delle due ci dia un downgrading si chiama cioè retroceda anche solo di un punto fidatevi ma la credibilità del nostro debito pubblico e noi rischiamo di nuovo la banca rotta come nel 2011 andiamo su giorgia meloni giorgia meloni dicevamo dicono gli osservatori nella settimana davanti a tre crisi una quella economica una quella personale di giambruno una quella internazionale arriveremo all'internazionale la crisi di giambruno tu hai detto è un caso politico perché ma ci sono almeno tre ragioni che lo giustifichino la prima è che questo caso non sarebbe mai dovuto esplodere se giorgia meloni fosse stata consapevole del conflitto di interessi che abitava in casa sua perché avere il compagno che conduce un talk settimanale e ne abbiamo visti di incidenti nel corso di questi mesi senza capire che questo esponeva lei a un pericolo è stata una grave mancanza di senso pratico quindi doveva evitarlo fin dall'inizio il secondo è di nuovo il conflitto di interessi ma visto da un altro punto di vista perché quel caso esplode per dei fuori onda che arrivano da striscia la notizia che è il manganello mediatico di mediaset dai tempi di silvio berlusconi allora la domanda è dopo che è uscito il primo può anche darsi che ricci non l'avesse detto a nessuno ma nel tra il primo che esce il secondo che arriva possibile che la famiglia berlusconi non sa niente non parla con la presidente del consiglio forza italia cosa dice eppure il secondo è uscito e dunque che segnale è dal punto di vista degli equilibri di maggioranza questo è il punto abbiamo visto nella manovra infatti quelle poche risibili ma comunque presentabili modifiche che hanno fatto sono arrivate dopo l'uscita dei fuori onda e questo qualche cosa ci dice cioè sia salvini sia tagliani forza italia probabilmente hanno sfruttato quel momento di debolezza innescato dai fuori onda per alzare la posta sulla manovra e due cosettine almeno le hanno portate a casa facendo infuriare Giorgia Meloni io non l'ho mai vista così nervosa come in questo periodo in cui dice siete nervosi alla all'opposizione no molti l'hanno letto come un segnale di nervosismo suo tu lo vedi come tale ma dire nervosismo è dire poco io l'ho vista da due punti di vista ma perché hanno una maggioranza c'è una crisi internazionale che blinderebbe chiunque alla guida di un paese della nato dell'occidente perché c'è del nervosismo guarda non mi stanco di chiederlo attraverso appunto queste trasmissioni televisive le cose che scrivo alla presidente del consiglio vorrei che ce lo spiegasse lei perché è così ansiogena e trasmette tutta quest'ansia al paese appunto hanno stravinto le elezioni l'opposizione non è in grado di rappresentare alcun tipo di alternativa ciò non di meno lei in ogni comunicazione pubblica e anche parlamentare perché a me ha colpito sia il video che ha mandato in occasione della festa del primo anno del suo governo sia le sue comunicazioni alle camere alla vigilia del consiglio europeo quando si è rivolta all'opposizione dicendo vi vedo nervosi poi quando ha queste cadute immediatamente cambia anche lo slang riacquisisce questo romanesco tutti gli ammiccamenti se non c'è nulla di male ma dice esce al naturale ma no ma no esatto allora mi viene da pensare è una questione di forma e ne sono convinto che lì ci sia un dato caratteriale direi genetico è la sua natura da un lato dall'altro lato c'è il suo passato cioè lei non smette mai di liberarsi della sindrome di Calimero o del complesso dell'underdog quella che ha vissuto per vent'anni nelle fogne con le MSI fuori dall'arco costituzionale non che fossero delle fogne vere no si diceva all'etica no all'etica fascistica rogne tornate nelle fogne c'era pure la voce della fogna un giornale esattamente bravo esattamente adesso che governa il paese vive ancora con quella sindrome lì come se fosse ancora l'opposizione e di un'opposizione fuori dall'arco costituzionale e quindi scarica intanto appunto su tutti i nemici reali pochissimi immaginari tantissimi tutte le sue tensioni ma non ce n'è bisogno governa il paese e basta c'è una coincidenza che è stata notata ogni volta che c'è un momento di crisi esce fuori un tema diciamo ideale valoriale abbiamo cercato di riassumere in questo cartello i vari passaggi in cui il paese si è diviso su dei passaggi su delle questioni teoriche ideali ora eccolo qua dunque si chiude la manovra e si lancia il premierato ora ne parleremo la cune nel decreto cutro ci sono stati gli attacchi alla magistratura politicizzata c'è stato il picco di sbarco e proprio in quel momento è uscito il decreto sulle baby gang il caso Santanchè ha chiamato il reato universale di maternità surrogata gli obiettivi del PNRR a rischio ha chiamato il divieto di registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali è una strategia anche quella di lanciare il tema del premierato in corrispondenza con tasse più alte e pensioni più difficili assolutamente sì l'elenco che avete fatto testimonia appunto di quella matrice culturale di cui parlavamo che incrocia il populismo e il post fascismo cioè la costruzione del nemico e la ricerca del capro espiatorio in questo caso il premierato non è tanto la ricerca del nemico e neanche il capro espiatorio ma è un modo per mettere le mani avanti io agito lo spettro di questa riforma che poi nel merito è una vera schifezza diciamolo in maniera esplicita per usare un eufemismo perché prevede per il nostro paese una forma di governo che non c'è in nessuna democrazia occidentale in nessuna democrazia occidentale è prevista l'elezione diretta del presidente del consiglio vabbè quello per il sindaco d'Italia la voleva pure ma non c'è dubbio infatti si è visto come è andato a finire contro un muro ora non auguro a Meloni di finire contro un muro ma temo che ci andrà a finire perché ripeto noi crediamo sempre di fare le cose più furbe degli altri e invece molto spesso facciamo solo delle gigantesche stupidaggini ma perché lo fa? perché appunto si precostituisce il terreno poiché la congiuntura resta pessima economica a livello generale non parlo soltanto dell'Italia poiché i tassi di interesse restano elevatissimi adesso si aggiunge anche la guerra in Medio Oriente è chiaro che siamo in un quadro complicatissimo lei l'anno prossimo difficilmente onorerà le altre cambiali che ha sottoscritto con questa manovra e quindi lei ha un'altra arma di distrazione di massa perché a un certo punto potrà dire al paese purtroppo io non riesco a fare quello che ho fatto e che vi ho promesso l'anno prossimo non potrà dire che è la BCE e che è Conte perché l'ha già usati quest'anno questi due bonus e allora sarà il premierato sarà ho bisogno di questa riforma perché se no non riesco a governare adesso il tema che affronteremo con i nostri ospiti che già avete visto arrivare il tema degli esteri là come si sta comportando Giorgia Meloni ecco su questo devo dirlo in tutta sincerità Giorgia Meloni ha incarnato perfettamente la fase l'ha capita e l'ha portata avanti con grande determinazione e dignità l'unica cosa sulla quale io promuoverei a pieni voti questo governo è la politica estera perché ha tenuto una linea saldamente euro-atlantica sia nella guerra della Russia contro l'Ucraina e anche adesso sulla questione in Medio Oriente quindi ripeto sulla politica estera è l'unica cosa sulla quale per fortuna finora teniamo il punto e speriamo che Massimo Giannini resta con noi perché devi conoscere